prepariamo insieme i filetti di orata in crosta di zucchine una ricetta facile e veloce e anche dietetica prendete i filetti di orata e tamponateli con carta assorbente e quindi condite con sale e pepe trasferite i filetti di orata in una teglia ricoperta da carta forno affettate le zucchine ricavando delle rondelle sottilissime quindi sistemate le rondelle di zucchina sui filetti di orata ricoprendo tutta la superficie dovrete simulare le squame del pesce più o meno a questo punto condite del pangrattato con sale prezzemolo e aglio mescolate e ricoprite le zucchine con il pangrattato condite con un cucchiaino di olio per ogni filetto di orata naturalmente potreste utilizzare anche dei filetti di spigola quindi cuocete in forno a 180 gradi per circa 15 minuti ed ecco i nostri filetti di orata in crosta di zucchine cotti facile e veloce e anche gustoso grazie per aver seguito questa video ricetta alla prossima ciao